Ucraina e il Parlamento di Kiev approva in prima lettura un progetto di legge che trasforma in reato contro la sicurezza nazionale ogni forma di promozione dell'omosessualità. Il testo resta alquanto lacunoso riguardo a che cosa si intenda esattamente per promozione dell'omosessualità. Le pene previste andrebbero fino a 5 anni di reclusione.